Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso, non spostarmi, perché penso fuori. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che non c'è il mio sorriso, non nascondere il mio sorriso, perché sei tu, o sei tu ancora. Tu dimmi quando, siamo angeli che non c'è il mio sorriso, perché sei tu, o sei tu, o sei tu, o sei tu, o sei tu. Nel suo tour lungo la costa Ionica, Anna Tatangelo fa tappa a Montegiordano, giovedì 18 agosto, con un concerto live, che ha ripercorso i suoi brani più celebri. Essere una donna doppiamente fragili, quando due si lasciano, ragazza di periferia, nella nuova versione che si avvale della collaborazione di Achille Lauro. Grande partecipazione di pubblico, che ha più volte intonato insieme all'artista i suoi brani più famosi. La cantautrice partenopea ha voluto anche omaggiare, con una toccante dedica, la memoria del compianto Pino Daniele, intonando un brano molto amato e conosciuto. Quando? Aperta dalla cantante policorese Mimma Pisto, la serata di grande e gioiosa festa ha visto anche la partecipazione di una ragazza amante della musica, Nadia Gentile, che ha duettato con la Tatangelo. Inserito nel cartellone estivo, il concerto ha sicuramente rappresentato l'evento di punta dell'estate montegiordanese, in una terra alla Calabria dove l'artista ama sempre ritornare. Sindaco, grande partecipazione di pubblico questa sera, sarà sicuramente soddisfatto? Sì, sono davvero molto soddisfatto perché è stata una serata bellissima, con tantissima gente. Noi non ci aspettavamo, sinceramente, tutta questa affluenza per Montegiordano. È stato uno degli eventi più importanti, dimostrati anche dal fatto che comunque la gente ha accettato ben volentieri e l'invito a venire qui per ascoltare la voce di Anna Tatangelo. Un cartellone estivo, pieno di appuntamenti che fanno di Montegiordano un luogo di destinazione turistica. Grazie anche alla collaborazione di tutta l'amministrazione comunale, in particolar modo del nostro delegato al turismo e allo spettacolo, Francesco Bombarola, che ha organizzato lui un po' tutto il cartellone estivo. Abbiamo avuto una grossa affluenza anche di pubblico su tutte le manifestazioni fatte, a partire dalle sagre. Abbiamo avuto la passeggiata enogastronomica del 9 di agosto, la sagra del pesce il 12, la stigliola il 17. Quindi davvero siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in questo periodo di agosto. E' sì, perché da qui siete veramente tanti. Grazie che sei venuta qui e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Assolutamente. Grazie a te, sei stata bravissima. 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 O se ti è ancora, se ti è ancora, è il libro simile, tutto il giorno prevede, per me via, fai ricordi a questa strana pazia, il paradiso, forse esiste, per me via, fai ricordi a questa strana pazia, per me via, fai ricordi a questa strana pazia,